Perchè è trattato? Perché... Ehi, hai fatto la verifatia domani. Non so. Allora, c'è un altro cammino lì? Allora, c'è un altro cammino lì? Guarda, adesso ancora uno. Guarda l'ho fatto. Avete visto le cussette qua? Quale cussette? Vediamo. Molto違う. Vieni a te. E ho intenzione. E ho bella muchachà. Non c'è il problema, non c'è il problema. L'ascolto idroponico è disturbato dal bersaglio di avvicinamento, forza 4. Assumere primo grado di approfondimento, primo stato di sicurezza. Assumere primo grado di approfondimento, primo stato di sicurezza. Camera lancio da manovra, allagare e compensare tubo di lancio numero 1. Manovra da camera lancio, tubo numero 1 allagato e compensato. Camera lancio da manovra, aprire cappello esterno, tubo di lancio numero 1. Manovra da camera lancio, cappello esterno, tubo numero 1 aperto. Chi vuole la gente? Chi vede? Allora, non la lancio, Siluro fuori. Siluro in acqua, ascolto disurbato. Mi toco al tavolo. Sopra posizione di Siluro, rilevamento 290, bersaglio 290, ascolto un mondo disurbato. Chi vedi sopra? Chi vedi sopra? Chi vedi sopra? Chi si è? Chi va? Chi va? Chi va? Chi va? Chi va? Mi toco all'altro. Vittor ho un periodo di vero? E... over! India Alfa, November, Sierra, India Alfa, November, Sierra, this is Alfa, November, Oscar, Victor, Roger, Roger, Goet, over! Ah, this is India Alfa, November, Sierra, Roger, stand by! On the cover at the time of On, the number of people right now are confirmed by the show. Prairie, over! Manovra da radio, messaggio uscente per il comandante delle forze subacquee, segnalata presenza di unità non identificate a nord-ovest della nostra posizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!